Buckel, rincorso proprio da Guana, si libera l'Austria, occhio al suo sinistro! Buckel, che grandissimo gol del Bologna al 28esimo minuto, un super gol di Marcel Buckel! Caccia dentro per Laribi, Laribi, palla per Acquafresca, Acquafresca! 2-0, torna a segnare Robert Acquafresca dopo due anni e mezzo in Italia! Caccia, Laribi, sta arrivando Casarini con il sinistro, Casarini! 3-0 Bologna, Casarini al 37esimo minuto! Grande affollamento al limite dell'area di rigore del Bologna, Politano batte, Teso Salamon! E' il gol del Pescara, batto Salamon! Il Pescara prova a riaprire la partita al settimo minuto, Salamon, 1-3! Si gira Pasquato, adesso Politano, zona tiro per lui con il sinistro, Coppola! E poi ancora la parte vuota, finisce giù, calcio di rigore, calcio di rigore per il pallo su Pasquato! Parte Magnero, destro, rete! Magnero, 2-3, si riapre tutto! Il Bologna...